La celebre Francesca de André è stata ricoverata in ospedale dopo aver ingerito per errore del detersivo scambiandolo per dello yogurt. La giovane ha condiviso la sua disavventura sui social, suscitando preoccupazione tra i suoi follower. La figlia del noto cantautore Cristiano de André ha raccontato di aver rischiato la vita per un tragico errore domestico. Dopo aver pensato di mangiare uno yogurt, ha invece ingerito del detersivo, mettendo a repentaglio la sua salute. Francesca ha dichiarato sui social, oggi ho rischiato di morire. Il detersivo ha rischiato di danneggiare fegato, appendice, stomaco, intestino, oltre agli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi. Nonostante non si sia ancora ripresa completamente dall'incidente, la giovane ha voluto lanciare un messaggio di avvertimento ai suoi fan. State attenti, soprattutto ai bambini e agli animali che potrebbero avere accesso. Ora siamo qui, ma dopo non si sa. I sostenitori di Francesca de André hanno manifestato il loro sostegno e incoraggiato una pronta guarigione. Tuttavia sul web sono sorti dubbi sulla veridicità della storia. È davvero possibile confondere del detersivo con dello yogurt? Molti utenti mettono in dubbio la versione raccontata. La vicenda ha messo in luce l'importanza della cautela in casa e della corretta conservazione dei prodotti per evitare incidenti simili. Francesca de André ha vissuto un momento di paura, ma ora è determinata a sensibilizzare gli altri sull'importanza una bambini, che è un'attività, che è un'attività, che è un'attività. Un'attività in cui sia un'attività, purifica le loro sostegno di più a un'attività. Quindi la storia è un'attività che è un'attività. Grazie.